Abbattete il mercatone, prima che ci scappa è il morto. Dopo le fiamme che hanno avvolto alcuni locali della faticente struttura dell'ex centro commerciale, da via Ferriere, dove da anni incombe il mostro, commercianti e residenti che coinvivono con il monumento del degrado al centro città, invitano l'ente di piazza del popolo a intervenire. Chi ha piccato il fuoco, avvertono alcuni testimoni, poteva provocare un disastro, considerando la vicinanza di negozi e abitazioni. Io infatti stavo qua e ho visto poi 5 minuti a 4 punti nel mercatone che buttava fuoco, quindi c'era tutto fumo nero, una strada tutto piena di fumo che non si respirava nemmeno, però non lo so, poi sono corsi di pompieri, perché hanno chiamato i pompieri. Quindi erano 4 i rughi. Sì, sì, 4 i punti di rughi. Non si rendono conto che devono trovare una soluzione molto valida, quindi buttarla a terra e fare dei parcheggi, è la cosa più principale che è, è più diciamo idonea per la città di Avellino. Così non è niente funzionale, funzionale forse per la delinquenza, per le persone che giustamente non hanno tetto, per altri che fanno il porco comodo loro lì dintro, questo è tutto. A 10 metri da mia attività commerciale. Ha avuto paura perché comunque lei... Io stavo a casa, mi hanno telefonato, sono dovuto scappare da casa. E bisogna prendere provvedimenti per questo mercatore, che bisogna fare, vogliono giudere, vogliono dare incessione, e non è meglio dare incessione. Io so che devono dare incessione, ma quando? Quando se ne fanno? Quando andranno via? Insomma, per voi commercianti è sempre più difficile restare in zona. No, ma per l'amore di Dio, noi siamo proprio inquaiati. Qui dentro c'è il caos, succede di tutto, quindi è un peccato sia per la salute delle persone e per chi ci vive all'interno, e spero che chi debba fare qualcosa lo faccia il prima possibile. Grazie a tutti.